Siamo nel pieno della stagione estiva e nonostante tanti proclami della giunta de Filippo sull'opera di rilancio dell'offerta turistica della nostra regione manca la variante al piano regionale dei Lidi. E quanto afferma il consigliere regionale del PDL Mariano Pici che ha presentato un'interrogazione urgente per conoscere lo stato dell'iter procedurale di adozione della variante al piano regionale dei Lidi e sollecitare gli organismi competenti affinché il consiglio regionale possa discutere ed approvare in tempi rapidi il provvedimento. Nel ricordare che il piano dei Lidi fu approvato in maniera parziale nel lontano 2005 e solo nell'ottobre 2010 il governo regionale ha proceduto all'adozione della bozza della variante avviando così le conseguenti procedure di pubblicizzazione del provvedimento, partecipazione e consultazione previste dalla normativa di settore, Pici afferma che la variante una volta approvata permetterà agli operatori turistici di pianificare gli investimenti in un quadro certo e di presentare validi progetti per qualificare e diversificare l'offerta turistica. È fondamentale e necessario quindi definire a breve e senza ulteriore indugio, conclude l'esponente del Pdl, la variante al piano regionale dei Lidi affinché il turismo balneare possa finalmente considerarsi settore trainante dello sviluppo dell'intera regione.